In merito al terremoto politico che in quest'ultima settimana ha investito il Partito Autonomista Trentino, abbiamo intervistato l'Onorevole Mauro Ottobre. Il PAT Trentino e Alto Gardesano come sta vivendo questo momento post-polemica e post-pederniana? Ma noi eravamo in una fase congressuale, quando un partito va a congresso dovrebbero vincere le idee, le idee, la competizione, una sana competizione e non uno scontro tra persone. È successo che la classe dirigente, c'è un nome e cognome, Rossi e Panizza, e questo non me ne dispiace molto, hanno pensato di scaricare le tensioni del congresso in un territorio come il nostro, l'Alto Garda del Edo, che non aveva bisogno sostanzialmente. Non è che noi siamo, seppur in un partito con 70 anni di storia, voi sapete che l'Alto Garda vive un bel periodo come partito autonomista da circa 10 anni sostanzialmente. Ecco che allora hanno trovato nella persona di Carlo Pederniana, una persona sicuramente un amministratore onestro e corretto, ma hanno trovato una debolezza di una persona che quando antepone all'interesse del partito la propria missione personale, evidentemente qui è nata la rottura, anche perché la mia candidatura era nata dal territorio dell'Alto Garda. Tutte le sezioni, per ben tre volte, tutti i direttivi dell'Alto Garda del Edo hanno deliberato l'anonimità sulla mia persona. Avevano detto sì, ottobre pur con tutti i suoi difetti potrebbe riuscire a Trento con una presidenza o con una segretaria di partito a fare un qualche cosa di più per la nostra zona, perché la mia era proprio una candidatura non tanto di carattere provinciale, ma una candidatura locale, perché evidentemente abbiamo il governatore del PAT, abbiamo l'assessore provinciale, eccetera, eccetera, però noi ci accorgiamo che questa politica autonomista aveva bisogno di qualcosa di più. Ecco che allora io avevo lanciato le riforme di marcato a cento autonomista. Cosa vuol dire? Ma se noi siamo in un territorio con turismo, evidentemente dobbiamo andare a qualche cosa in quella direzione, perché altrimenti saremmo ricordati come quelli che hanno messo, io no, ma quelli che hanno messo la tassa di soggiorno. No, evidentemente a fianco al turismo ci vuole una grande riforma. Arco non è anche la dimostrazione, riusciamo a avere una lunga stagione turistica, Arco c'è un sacco di attrazione, quelle del mountain bike, quelle dell'arrampicata, possono arrampicare da ogni tutto l'anno, sostanzialmente ecco che il turismo porta benessere, ecco che noi dobbiamo accompagnare questo turismo, questi imprenditori, ma anche quelle persone che magari hanno degli edifici vecchi, no, da ristrutturare, da poter accogliere questi turisti. Ecco che allora era questa la nostra intenzione anche dell'Alto Gardeleda, di far sentire maggiormente di più la voce. Purtroppo hanno fatto l'incontrario e alla fine ne siamo tutti quanti andati e distrutti da una lotta interna che si poteva evitare perfettamente. Questo brutto tiro che è stato fatto a Carlo Pederniana subirà delle conseguenze a livello locale? Ma dal punto di vista amministrativo Carlo Pederniana non ha alcuna macchia, quindi è amministrato sempre nell'interesse della popolazione. È evidente che rimane il fatto che queste foto sono state usate contro una persona, ma più che altro perché è evidente che essendo un partito collegato, quello del Presidente, ogni cosa che può nuocere viene tirata fuori. non ha evidentemente fatto del bene a me. Qualcuno pensa che io ho tolto un candidato, si potrebbe... no, io ho detto chiaramente che non candido più a questa carica perché non è il mio modo, il mio uso fare fortuna sulla pelle altrui, insomma. Con Carlo Pederniani ci siamo chiariti, ha capito anche lui che è stato usato, questa è la verità, e queste cose non devono più accadere in questi territori. Io ho detto chiaramente che non ho nessuna intenzione di militare in un partito, se vi è una frangia, una parte di persone che intendono la politica contro le persone e non sulle idee. Io voglio essere combattuto sulle idee. Se le mie idee sono valide, allora io ho bisogno di sostegno dalla gente e anche dal partito. Se le mie idee non sono valide, è giusto che io stia a casa mia come tutti quanti. Questo diffondere le foto è una cosa venuta dall'interno del partito, quindi? No, è venuta dall'esterno del partito e sono delle persone che non hanno accettato evidentemente il giro di spalle che Carlo Pederniani aveva fatto nei miei confronti e è evidente che sono state usate. Ma usate più che altro perché non hanno gradito anche leggendo la stampa che io ho veramente detto, ho parlato di pugnalata alle spalle, evidentemente queste persone che si rifanno al ventennio non hanno digerito questa situazione. Ma comunque Carlo è stata una persona usata dai vertici provinciali. Questa è la colpa e questo mi dispiace perché allontana la gente dalla politica. La politica è una cosa inesta, molto onesta. Sono le persone che la sporcano purtroppo.